Dalla centrale del Centro 18 come si vive questo momento? Intensamente, le cose da fare sono tante e non ci fermiamo mai, è cambiata in maniera evidente la nostra attività, il nostro modo di lavorare perché effettivamente ora tutta l'urgenza è concentrata su questa pandemia, sul coronavirus e sono diminuiti nettamente tutte le altre tipologie di interventi e quindi ci siamo un po' riassestati. Lavoriamo tanto, siamo sempre impegnati, per fortuna diciamo che tutto il gruppo ha dimostrato volontà, presenza, impegno e che sicuramente aiutano in questa emergenza, anche perché tutti sentono la difficoltà di star lontani dalle famiglie di stare tanto al lavoro, la paura, la preoccupazione e tutto quanto. C'è qualcuno tra voi che ha scelto di non tornare a casa e quindi di avere un alloggio alternativo per non contagiare le proprie famiglie? Sì, ci sono stati alcuni di noi che hanno preso questa decisione e quindi quando smontano dal turno vanno negli alloggi che sono stati messi a disposizione per noi sanitari e passano il loro tempo lì, il loro poco tempo tra un turno e l'altro perché non è che ne abbiamo così tanto. Si vive con preoccupazione, ogni intervento c'è il dubbio che possa essere sia positivo o meno, quindi il dubbio e il rischio di essere contagiati è costante, però la viviamo ovviamente con dedizione come abbiamo fatto sempre fino al momento, quindi bene comunque. Io ho trovato una soluzione diversa dall'albergo, comunque anche io mi sono isolato dalla famiglia e vivo da solo in un appartamento al momento. E cos'è che ti manda a dire? Sicuramente oltre al cane ovviamente, sembra una cosa banale ma non lo è, ovviamente i familiari, la vicinanza, la tranquillità di tornare al proprio domicilio con serenità. Come vi possono aiutare i cittadini? Io ad esempio ai miei bambini gli dico sempre non vi fate male perché non dobbiamo attivare il 118 perché hanno da fare qualcosa di più importante. Ecco questa è una banalità, però come vi possono aiutare i cittadini? Allora in realtà il 118 è aperto a tutti e è importante comunque contantarlo nel momento del dubbio. Questo perché altrimenti rischiamo, come è successo altre volte, che le persone con la paura di entrare all'interno dell'ospedale non hanno chiamato e invece dovevano chiamare perché erano cose che avevano necessità di un percorso separato dal Covid e quindi di un accesso a un pronto soccorso. L'altra cosa che chiediamo ai cittadini è semplicemente pazienza sulle domande che facciamo, che ne facciamo molte di più rispetto a prima perché chiaramente in questo momento le informazioni che noi dobbiamo avere, ricevere per individuare percorsi giusti e non solo, anche per proteggere non solamente noi del 118 ma anche tutto il personale del mondo del volontariato, va bene? Dobbiamo avere delle informazioni chiaramente in più per fare dei soccorsi corretti. Quindi solo pazienza al telefono.